Ciao ragazzi, come state? Oggi è il 23 dicembre. Vediamo cosa c'è nel nostro sacchetto. Abbiamo una bellissima stella di Natale. Vi spiego come si fa. Ecco il materiale che ci servirà. Dei rotoli o di cartigenica oppure dello scottex. Delle tempere o un pennello, un righello e una matita, delle forbici e infine la colla a caldo. Per prima cosa coloriamo il nostro rotolo di cartigenica con le tempere. Una volta colorato e asciutto, prendiamo il nostro rotolo, lo schiacciamo e prendiamo il nostro righello. A questo punto, creiamo delle strisce di un centimetro e mezzo sul nostro rotolo. Una volta creato le nostre strisce, le possiamo tagliare. Queste saranno le punte della nostra stella. Adesso dobbiamo attaccarle con la colla a caldo. Mi raccomando, fatevi aiutare da un adulto. Prendiamo una punta e mettiamo della colla a caldo sul lato inferiore. A questo punto, attacchiamo le due punte insieme. E così per tutte le altre. Una volta attaccate tutte le punte, voilà! La nostra stella è pronta. Io l'ho decorata con dei brillantini. Voi sbizzaretevi più che potete!